Il corpo è stato notato da alcuni pescatori sulla spiaggetta tra argine e letto del fiume Po. Apparteneva ad un uomo, Antonio Piombo, 61 anni, di Ceregnano, in provincia di Rovigo, raggiunto da due colpi di pistola al fianco e alla tempia tra le località di Garofolo e Polesella, nel Medio Polesine. L'uomo lavorava in un bar alla stazione di Padova e la sua identità è stata ricostruita soltanto il giorno dopo il rinvenimento, visto che non aveva con sé alcun documento. La zona, vicino ad una torre di birdwatching, le posizioni per osservare le specie di uccelli, durante la sera e la notte è luogo di incontri particolari, ma anche di sbandati e tossicodipendenti. Gli inquirenti sono sulle tracce di un'auto che sarebbe stata vista allontanarsi in gran fretta dal luogo del delitto.